signore 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 starà sognando? mi spiace ma non saprà mai come andrà a finire Artur! Sei tu? Te l'avevo detto che sarebbe tornato Vieni da lontano? Da dove? E' qui sotto C'è il casoro Ma certo che eravano tutti matti stietruschi Se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino Chiudete E' qui ? ? ? ? ? Grazie a tutti. Grazie a tutti.